un saluto dallo stadio Valtel Bettrametti di Piacenza da Sanel Moharmovic e Alessandro Biasion tutto pronto per il match odierno valido per la seconda giornata del trofeo eccellenza si affrontano oggi Sitav Rugby Lions e Rugby Sandonà adesso Lions che attaccano con Carbone che prova a forzare il muro difensivo di Sandonà che adesso è in difficoltà bene così bianconeri ci prova anche si se con il fisico e poi è però manca la velocità questo pallone cammi che scarica e intercetto del numero 13 schia bella che può andare in mezzo ai pali qui ingenuità di cammi davvero l'avevo detto pallone troppo lente troppo prevedibile serve qualcosa in più che Alessandro è mancato in quest'azione oggi sono estremamente soddisfatto finalmente stiamo esprimendo quei valori che comunque sono nostri sono c'è stato una grande mischia nonostante voglio dire all'interquarti fossi inedita perché non c'era un titolare dentro però si sono ben comportati e questo si fa ben sperare anche nei momenti in cui ci sarà bisogno sì grazie di tutto è stato mandato molta fiducia ai miei compagni di squadra e poi vorrei ringraziare una persona che comunque sempre nei nostri cuori che è Federico Ghezzi che ogni volta che entriamo in campo giochiamo tutti per lui quelli che hanno giocato insieme a lui poi niente speriamo di continuare così con la prima squadra e dare il supporto quando verrò chiamato